Il percorso di Kimbo inizia da Napoli, giusto 50 anni fa. Napoli è un po' la città, è l'ema del caffè, città del caffè per antonomasia. E da lì grazie proprio all'abilità, alle capacità e alla lungimiranza dei fratelli Rubino che sono stati fondatori. Adesso l'azienda continua a raggiungere traguardi di successo con la seconda e terza generazione. Perché la scala? Perché Kimbo ha fatto della qualità il suo perno principale, sulla quale ha costruito tutta la sua fama e il suo successo. E quindi la scala è un luogo di qualità e abbinarsi ad un luogo di qualità era questo un po' il motivo per cui si è supportato la scala. Qualità ovviamente Kimbo la fa nei prodotti, nella realizzazione dei suoi prodotti e poi in tutti i suoi processi industriali. La scala invece nell'arte, ovviamente del canto, del balletto, della musica. La scala invece è un luogo di qualità, ovviamente del canto, del canto, del canto, del canto. Ci sono delle altre affinità valoriali, per esempio il rispetto della tradizione senza negarsi la sperimentazione. Innovarsi però essendo fedeli a quelli che sono i valori portanti. Sicuramente possiamo dire che la scala e Kimbo rappresentano, insieme ad altre aziende che partecipano a supportare la scala, rappresentano quella bella italianità, quel made in Italy che è sempre così invidiato, però molto apprezzato e che rende l'Italia nonostante tutto un paese ancora da amare. La scala invece è un luogo di qualità, ovviamente del canto, del canto, del canto.